44 E' arrivata una segnalazione di Upol Volante 4 A Via Rieti 24 E' arrivata una segnalazione di Upol Vittima di violenza domestica Sono precedenti su scudo Quindi massima attenzione 44 A Via Taranto, all'altezza dell'ufficio postale Senza media, prizzonato e distinto Sembra che avvicina Le persone anziane per il settativo di truffa Centro, Siena Roma 622 Siena Roma 622, avanti Buongiorno centro Iniziamo il servizio e il trasporto vaccino Siena Roma 622, avanti La felicitazione di Uectore Quattro, vabbè! e poi rientro